Cari amici, oggi vorrei parlare con voi del nuovo progetto speciale Goalset Master. A cosa serve? Perché l'azienda ne ha bisogno? Perché ne hanno bisogno i clienti? Perché ne hanno bisogno i nostri business partner? E prima di iniziare vorrei parlarvi di una storia che mi è successa molto tempo fa. Quando ero un ragazzo, un uomo molto saggio mi raccontò, non abbiate paura di commettere un errore, abbiate paura di smettere di andare avanti. Perché dico questo? Che cosa ha a che fare questo con la nostra conversazione di oggi? In realtà è molto semplice. Quest'uomo intendeva dire che bisogna fare qualcosa per ottenere qualcos'altro. Non fermatevi, fate qualcosa per ottenere qualcos'altro. Ma più tardi, nel corso della mia vita, ho visto molto spesso che questa formula meravigliosa non funzionava. Avete visto persone che sono sempre molto impegnate? Studiano, lavorano molto, sono pieni di attività e hanno un gran numero di piani, idee e progetti. Lavorano e lavorano senza sosta. Sono molto attivi. L'attività è il loro credo e, tuttavia, non ottengono alcun risultato. Qual è il motivo? Qual è il loro problema? È abbastanza semplice. Queste persone non si sono prefissate un obiettivo. Questo è molto banale. Certo, è una conclusione molto banale, ma è comunque un dato di fatto. È vero. È vero. Queste persone non si sono poste un obiettivo preciso e chiaro. Prima di parlare di questo, vorrei fare una semplice domanda. Come si inizia con un obiettivo? Qualsiasi obiettivo di qualsiasi persona, non importa affatto chi sia questa persona e quale sia la sua occupazione. E comunque, quando parliamo di obiettivi, parliamo anche di obiettivi completamente diversi. Questi obiettivi possono essere associati agli affari, alla famiglia, ad alcune aspirazioni personali, ai figli. Gli obiettivi possono essere completamente diversi. Quindi, da cosa si inizia con un obiettivo? L'obiettivo inizia con una cosa molto semplice. Un sogno. Tutte le persone sognano. E un sogno è, infatti, quel piccolo mattone iniziale che una persona pone per raggiungere i suoi obiettivi e i suoi piani. Tutto inizia con un sogno. Ma c'è un ma. Probabilmente, avete visto cosa succede quando qualcuno sogna qualcosa. Questa persona ha chiuso gli occhi. Sta meditando e sorride perché è così piacevole pensare a questi sogni, disegnare qualcosa nella propria mente, qualcosa di bello, solare e pieno di gioia. Questa persona, nei suoi sogni, si vede felice e di successo. Ha realizzato tutto. E quindi è molto piacevole pensarci. Ma ha davvero fatto qualcosa per realizzare il suo sogno? Credo che la risposta sia ovvia. Ho avuto una conversazione molto interessante con uno dei nostri top leader, Mikhail Ukwasov. Scherzando, con un po' di ironia, ha detto cosa sogna la gente? La gente sogna di perdere peso, la gente sogna di smettere di fumare e la gente sogna di fare un sacco di soldi. Ma l'intenzione di smettere di fumare può essere un obiettivo? Certo che no. Il desiderio di guadagnare, per esempio, 200.000 dollari, euro o qualsiasi altro tipo di valuta, può essere un obiettivo? No, non può. Non può essere un obiettivo. Un obiettivo è una questione su cui si è riflettuto, su cui si è lavorato e di cui si ha bisogno per qualcosa. Se parliamo di soldi, allora la gente guadagna soldi per uno scopo. Guadagnano soldi per fornire istruzioni ai loro figli, per comprare una nuova casa o una nuova auto, per qualcosa di cui hanno bisogno in questa vita. Non può esserci un obiettivo tale da intasare una delle stanze di casa con banconote di carta, solo per conservarvi soldi. Bene, questo non può essere un obiettivo. Quindi, passiamo al prossimo punto importante. Ancora una volta, sognare è un bene. Le persone sono in grado di sognare, il che significa che in futuro saranno in grado di fissare un obiettivo e di raggiungerlo. E il prossimo punto importante che determina il successo di una persona è la capacità di plasmare un sogno in un obiettivo correttamente stabilito. Molte persone sognano e tutta la loro vita è modellata in un modo molto strano. Tutta la loro vita felice non esiste nel mondo reale, ma nei loro sogni. Qualcuno ha sognato per tutta la vita e di anno in anno è molto contento di tornare al suo sogno e pensare wow, come sarà bello, wow, come sarà bello. Ma il sogno in sé non ha un piano, non ha strumenti per raggiungere l'obiettivo e non ha nemmeno la giusta impostazione. Quindi, il passo successivo, che è molto importante per le persone che vogliono raggiungere qualcosa nella vita, è la giusta definizione del loro obiettivo. Sottolineo ancora una volta la corretta definizione dell'obiettivo. Non si può stabilire un obiettivo come voglio ottenere 100.000 euro all'anno. A cosa vi servono questi soldi? Prima di tutto, bisogna pensare a questo problema. E oggi parleremo di uno strumento di cui sono molto orgoglioso. Questo strumento si chiama Goal Set Master. Uno strumento completamente gratuito. Per cosa è stato creato? Prima di tutto, è stato creato per permettere alle persone di capire i loro veri obiettivi con l'aiuto di passi assolutamente semplici. Beh, a proposito, voglio sottolineare che una persona non ha necessariamente un solo e unico obiettivo. Possono essere numerosi e possono essere diversi. Per cominciare, una persona deve guardare a quegli obiettivi che ha per capire se sono davvero corretti e degni di essere raggiunti. Ora, qual è il prossimo passo? Cosa ci si aspetta se ci siamo prefissati l'obiettivo giusto per noi stessi? Cosa ne faremo? Immaginiamo di aver sognato la nostra casa. Fantastico! Ci siamo posti l'obiettivo. Voglio comprare una casa. Cosa faremo dopo? Come ci adatteremo? Io voglio qualcosa. Ok, fantastico. È bello scrivere sul quaderno o sul diario. Il mio obiettivo è questo. È bello, ma l'obiettivo senza i mezzi per raggiungerlo in realtà non ha alcun senso. Ora vediamo come funziona Goalset Master. Come prima cosa, si accede a una sezione che offre un insieme specifico di obiettivi. Si tratta di obiettivi universali con cui la maggior parte delle persone si troverà d'accordo. Ma c'è un'altra piccola sottosezione dove potete scrivere il vostro obiettivo personale, nel caso non abbiate trovato l'obiettivo che cercavate nella lista. E la prima cosa che dovete fare è decidere quale obiettivo scegliere per voi stessi. Un vero obiettivo. Leggerò gli obiettivi elencati nel programma Goalset Master. Abbiamo scelto degli obiettivi che sono stati identificati utilizzando alcune ricerche fatte non solo da noi, ma anche da vari servizi sociologici, da varie istituzioni sociali. E questi obiettivi sono universali. Questi sono gli obiettivi che interessano alla maggior parte delle persone. Risparmiare per l'educazione dei bambini Risparmiare per la formazione e lo sviluppo personale Risparmiare per il rimborso dei prestiti, al fine di liberarsi completamente dei debiti Risparmiare per la vecchiaia o per la perdita della capacità lavorativa Risparmiare per l'acquisto di immobili Risparmiare per avviare la propria attività Risparmiare per la pensione Risparmiare per la creazione di un fondo di riserva Risparmiare per cambiare lavoro e fare ciò che ami Risparmiare per pagare un viaggio Risparmiare per permettersi qualche grosso acquisto Lo sottolineo ancora una volta Questo è un elenco di base, a nostro avviso, che può risultare di interesse a un grande numero di persone Ma in qualsiasi momento è possibile specificare il proprio obiettivo personale nel programma Goal Set Master Probabilmente avrete notato che la parola risparmio è spesso citata nell'elenco degli obiettivi Parlando di Goal Set Master, prenderemo davvero in considerazione il raggiungimento degli obiettivi da questo punto di vista Attraverso risparmi mirati o l'accumulo di risorse Perché? Facciamo un semplice esempio Se ci poniamo un grande obiettivo, più o meno significativo, come voglio imparare a disegnare Allora almeno bisogna comprare dei colori, una matita e della carta Come minimo bisogna fare dei corsi, bisogna fare qualcosa Dovrete spendere soldi per tutto questo Anche la comunità online non può fornire risposte a tutte le vostre domande e non può fornirvi un pennello Perché non si può semplicemente ottenerlo? Bisogna comprarlo Ecco il perché della parola risparmio Vale a dire che devi guadagnare qualcosa per raggiungere il tuo obiettivo Ora, guardiamo al prossimo passo Molto importante Se abbiamo deciso un obiettivo o uno dei nostri obiettivi Cosa faremo con questo e come possiamo raggiungerlo? Non funzionerà da solo Perché non funziona da solo? Perché abbiamo definito un obiettivo per noi stessi Ma c'è una società Ci sono alcuni ostacoli Ci sono alcune barriere che devono essere superate Ci sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte Affinché si possa raggiungere questo obiettivo Siete d'accordo? Penso che lo siate Come convivere con questa situazione? Come affrontarla? Cosa dobbiamo fare per raggiungere il nostro obiettivo? E qui c'è una seconda categoria molto importante Che il progetto Goalset Master prevede E sulla quale vorrei attirare la vostra attenzione In primo luogo Se stiamo parlando di un qualche tipo di obiettivo Che richiede spese finanziarie Dobbiamo decidere la quantità di denaro Con cui è possibile raggiungere il nostro obiettivo In secondo luogo Dobbiamo determinare il periodo di tempo Durante il quale possiamo guadagnare tale importo Anche questo è un punto molto importante Ma il passo successivo Estremamente importante È quello di elaborare il vostro obiettivo Con l'aiuto di un test di 18 domande Di prova Nel programma Goalset Master A cosa servono? Queste domande di prova Sono concepite per capire Valutare Ed elaborare a fondo Il vostro obiettivo Questo obiettivo È davvero importante per voi? Questo obiettivo È vero e coerente Con i vostri valori E le vostre idee sulla vita? Siete davvero in grado Di superare tutte le barriere E gli ostacoli Per raggiungere questo obiettivo? Ecco perché Rispondendo a queste domande Nel nostro programma Goalset Master Capirete e diventerete consapevoli Di ciò che volete veramente È molto importante per noi Che possiate guardare Ed elaborare i vostri obiettivi Con l'aiuto di domande di prova Per capire Se siano davvero importanti per voi E cosa vi aspetti Sulla strada Per raggiungerli E cosa dobbiate fare E ora Divagherò un attimo In realtà Goalset Master È un programma abbastanza semplice Dovete solo accedere E vedere cosa succede Ma volevo attirare La vostra attenzione Su un'opzione In Goalset Master Tra le altre cose C'è una funzione di questo tipo Una volta raggiunto Il vostro obiettivo nel programma Potete stampare il risultato Per voi stessi Le risposte alle domande Ecco quindi Il mio importante consiglio Assicuratevi di farlo In primo luogo Questa è un'ulteriore opportunità Per capire meglio Il vostro obiettivo Se avete completato Questo programma Una volta Ciò non significa Che avete finito Di lavorarci Non significa Che avete finalmente Raggiunto il vostro obiettivo Perché? Vi faccio un esempio Molto tempo fa Mio padre Mi ha insegnato A leggere libri Non solo A leggere Meccanicamente Come i genitori Insegnano i bambini A fare Ma a leggere In un certo modo Che cosa significa? Per tutta la vita A partire dal momento In cui ho iniziato a leggere Ho letto Qualsiasi libro Con una matita In mano Assolutamente Qualsiasi libro Sia esso di narrativa O una specie di libro Di testo Non ha importanza Perché quando leggo Segno le idee Che mi attraggono Particolarmente O che suscitano Emozioni Particolarmente Forti Emozioni E idee Che stimolano I miei pensieri E le mie intuizioni O forse Anche aiutano A risolvere Certi problemi E prendo appunti Nei libri Segno queste idee Con la matita Seguo un sistema speciale Solo mio Infatti I miei appunti Esprimono Il mio atteggiamento Emotivo Nei confronti Di certe affermazioni Dell'autore E cosa ancora più importante Questa È la mia capacità Di elaborare Le mie idee E i miei obiettivi In dettaglio E in particolare Lo faccio perché Dopo un po' di tempo Forse Tra un mese O forse Tra dieci anni Tornando ai miei appunti Nel libro E guardando Attraverso Ciò che ho segnato Una volta Potrò Potrò Analizzare Come ero Quali obiettivi E priorità Mi ero prefissato E' interessante Per me Vedere come sono cambiato E capire cosa è cambiato Nella mia mente E cosa rimane uguale Ma la cosa più importante È che posso modificare Le mie aspirazioni E i miei progetti Posso cambiare me stesso E trovare nuove E più efficaci Soluzioni Vi consiglio Di utilizzare Il programma Goalset Master Allo stesso modo Dopo che avrete stampato I vostri obiettivi Insieme ai vostri pensieri E alle vostre risposte Potrete riguardare Tutto questo In qualsiasi momento In futuro Da una nuova Prospettiva Quando avete del tempo libero O il tempo che avete Programmato Per riflettere Magari la sera Quando siete con vostra moglie O un amico La famiglia O quando siete soli Fatelo Per voi stessi Dopo un po' di tempo Lo riguarderete E forse Avrete nuove idee Aggiunte Che vorreste fare Correzioni Forse Vorrete cambiare qualcosa Questo È un punto Molto importante Molto importante Perché nulla È assoluto E la capacità Di stabilire E di elaborare Il giusto obiettivo Per voi stessi È un lavoro serio Dalla cui qualità Dipende Tutta la vostra vita Io Non mi affido A questo concetto Come assioma Questo mondo Di sicuro Lo capite E lo vedete Molto bene Anche senza Che ve lo debba Spiegare io Tende a cambiare Radicalmente E molte cose Prima Erano considerate Assiomi Oggi Non lo sono più La stessa cosa Può accadere Nella vostra mente Quello che una settimana fa Era un assioma Assoluto Per voi può cambiare E potete cambiare Il vostro punto di vista Potete cambiare Il vostro approccio Alla soluzione Di un particolare Problema Ancora una volta Voglio ripetere Goal Set Master Non è solo Un insieme di domande E di obiettivi È un programma Speciale Che se approcciato Con serietà Vi permetterà Prima di tutto Di riflettere Riflettere E guardare In qualche area Della vostra vita In cui volete Cambiare qualcosa Creare qualcosa Come lo farete Esattamente Con quali strumenti Questo È il prossimo Passo L'importante È che lo facciate Per voi stessi Lo facciate Per cambiare Il vostro punto di vista In modo da poter Prima di tutto Decidere da soli Ciò che è importante Per voi O ciò Che volete realizzare E In secondo luogo Forse Con l'aiuto Del nostro programma Goal Set Master Potrete aiutare Qualcun altro A prestare Attenzione A cose Che prima Neppure Guardava Se vi muovete In modo caotico Se vi affrettate Da un lato all'altro Se non sapete Dove sia Il vostro obiettivo Finale E cosa sia Allora Il vostro movimento Non porterà A nulla Questo modo Di comportarsi Finisce Per sconvolgere Una persona Prima o poi Una persona Che si muove A caso E senza un obiettivo Smette Di andare avanti Si ferma Ed è un bene Se ritorna Ad essere in grado Di pensare E vedere Che qualcosa Non va E se non lo fa Avrà davanti a sé Solo frustrazione Le frustrazioni Di solito Portano A una stagnazione Ancora maggiore A un fermarsi Ancora più a lungo Allora Allora Cari amici Riassumiamo Ciò che è stato detto Fino a questo momento Per cosa È stato creato Il programma Goal Set Master In primo luogo Per un'accurata E chiara Definizione Degli obiettivi Per fissare Un obiettivo Reale Lo sottolineo Un obiettivo Reale Non un sogno Di fantasia Ma un obiettivo Reale E il secondo punto È l'opportunità Di lavorare Per la sua realizzazione Come possiamo realizzarlo? Per questo Bisogna prima capire Ne avete davvero bisogno? È davvero questo Il vostro obiettivo? Siete pronti A lavorarci E a lottare Per ottenerlo? Per questo Nella seconda parte Del programma Goal Set Master Ci sono delle domande Di prova Diamoci un'occhiata Il talento speciale Di un essere umano È la capacità Di inventare E di sognare Ma alcuni sognatori Si limitano A sognare La propria vita E purtroppo Non raggiungono mai Alcun risultato Diamo quindi Un'occhiata Alle domande Di prova Che il programma Goal Set Master Ci offre Cominciamo a ragionare In questo modo Per prima cosa Determineremo Il nostro obiettivo Scegliamo Un obiettivo Che abbiamo indicato Come un obiettivo Classico Che viene perseguito Da un numero Sufficientemente Grande di persone E questo obiettivo È risparmiare Per l'educazione Dei bambini Questo È un obiettivo Assolutamente Meraviglioso Me lo sono prefissato Perché la reazione È il desiderio Normale Di un genitore È quello Di avere figli Intelligenti E istruiti E questo È un obiettivo Giusto Brillante Buono Ora Diamo un'occhiata A questo obiettivo Utilizzando le domande Di prova Fornite dal programma Goal Set Master E la prima domanda Che abbiamo È la seguente Il raggiungimento Di questo obiettivo Vale davvero Il mio tempo La mia fatica E il mio denaro Perché? Vediamola in questo modo Ditemi Per favore Avete visto Molti genitori Padri e madri Che non vogliono Che i loro figli Raggiungano Alcun tipo di successo Che non vogliono Che diventino Persone felici E di successo Avete visto Molti di questi genitori Nella vostra cerchia Beh In generale Non conosco persone Di questo tipo Nella mia cerchia E non ne ho mai viste Di solito Vediamo manifestazioni Di questo tipo In talk show televisivi Seguiti a caso In cui i genitori Decidono inaspettatamente Di non amare I propri figli Di abbandonarli Ma qualsiasi Persona normale Rispondendo Alla domanda Il raggiungimento Di questo obiettivo Vale davvero Il mio tempo Il mio impegno E il mio denaro Vale la pena Di spendere I miei sforzi Per risparmiare denaro Per l'educazione Dei nostri figli Risponderebbe Di sì Quale genitore Non lo vorrebbe? Chiunque Vuole essere Orgoglioso Del proprio figlio È intrinseco Nella natura Della vita L'istinto Alla continuazione E all'evoluzione Della nostra famiglia Ogni persona Vuole che la sua famiglia Continui Ogni persona Capisce che Prima o poi Non esisterà più Su questo pianeta E tutti noi Vogliamo che qualcosa Permanga Anche dopo di noi E quale eredità Significativa Possiamo lasciare Dopo di noi? Naturalmente Prima di tutto I nostri figli Forse I frutti Del nostro lavoro Forse Nel caso di un artista Alcuni dipinti Forse Affari O scoperte Ma anche Una delle cose Principali Che possiamo lasciare Su questo pianeta Affinché la vita Vada avanti E si evolva I nostri figli Naturalmente Vogliamo che abbiano successo E per avere successo Naturalmente Hanno bisogno Di istruzione In realtà Ci sono molti fattori Di successo Nella vita Moderna Ma l'esperienza Acquisita E l'educazione Giocano un ruolo Fondamentale Divagghiamo un po' E vi racconterò La seguente storia Come esempio Per la prima domanda Allora Allora Il raggiungimento Dell'obiettivo Che ci siamo Prefissati Vale davvero Il mio tempo La mia fatica E il mio denaro Divagherò Dai risparmi Per l'istruzione Dei bambini A un altro obiettivo Una volta Uno dei miei amici Si è posto L'obiettivo Di acquistare Una villa di lusso In uno degli angoli Più prestigiosi Del mondo Acquistare O costruire Non importa Era importante Per lui Avere una villa Questo Era il suo obiettivo Quest'uomo Era tutt'altro Che povero Aveva un sacco Di beni immobili Di conseguenza Ha raggiunto Il suo obiettivo Ma probabilmente Nel porsi Questo obiettivo Non ha risposto Con precisione A tutta una serie Di domande Non ha riflettuto E non ha elaborato Le vere ragioni E i veri desideri Personali Sono passati Circa un paio D'anni Da quando Ha acquistato Questa villa Quando gli ho chiesto Allora Come va? Sei contento? Come si rilassa La tua grande famiglia Nella casa dei tuoi sogni? Va tutto bene? E lui ha risposto Sai Non proprio Gli ho chiesto perché E lui ha risposto Vendo questa casa Perché vivo e lavoro In un altro paese I miei figli sono partiti Per studiare In un altro paese E per loro La nostra casa È il luogo dove In effetti Viviamo tutti Siamo andati Siamo andati a stare In questa villa Per circa sei mesi E ora nessuno Vuole andarci Perché le possibilità Nel mondo Sono molto diverse Si può volare In qualsiasi parte Del mondo Per rilassarsi Per imparare Qualcosa di nuovo Quindi nessuno Vuole andarci M'è compreso Quindi alla fine Non avevo davvero Bisogno di questa villa Domanda A quel tempo Ponendosi un tale obiettivo Rispose alla domanda Il raggiungimento Di questo obiettivo Vale davvero Il suo tempo La sua fatica E il suo denaro Forse ha risposto Ma forse Non ha pensato E non ha trovato Una soluzione Beh Perché il suo obiettivo Si è concluso Con il fatto Che non aveva bisogno Di questa villa Ora Diamo un'occhiata Alla prossima domanda Perché sono pronto A fare tutto Il necessario Per raggiungere Questo obiettivo Cosa mi spinge davvero Cosa è importante Per me Per raggiungere Questo obiettivo Quando si tratta Di risparmiare Per l'istruzione Dei bambini Ci possono essere Cose completamente Diverse Ancora una volta Voglio sottolineare La cosa più importante Qui È che ognuno Deve rispondere A queste domande A se stesso E rispondere onestamente Si risponde A se stessi Non si risponde A queste domande Ad alcuni amici A qualcun altro Si risponde A se stessi Prima di tutto Se si aiuta Qualcuno A passare Attraverso Questo programma Si dovrebbe Anche dire A qualcuno Che risponde A se stesso Solo A se stesso Questa persona Deve guardarsi Dentro E pensarci su Perché Sono pronto A fare tutto Il necessario Per raggiungere Questo obiettivo Cosa mi spinge Davvero Forse Forse Per alcune persone L'obiettivo Di risparmiare Denaro Per l'educazione Dei bambini Comprende un semplice Desiderio Ora Investirò Un po' di soldi Ed educherò I miei figli E poi Mio figlio Potrà Mantenermi È possibile? Forse Forse la persona Vuole essere Orgogliosa Di suo figlio Vuole vedere Un ritratto Di suo figlio Su un giornale O forse Da qualche altra parte E la gente Ne parlerà Con rispetto Oh che persona Di successo E qui c'è Il suo cognome Vuole esserne Orgoglioso Insomma Ci possono essere Motivazioni Completamente Diverse Una di quelle Che ho appena sentito Alcuni di voi Lo sanno Forse qualcuno Ne ha sentito parlare O forse qualcuno Non si interessa Al tennis Ma c'è una storia Che riguarda Una tennista russa Maria Sharapova Quando suo padre Vide che la ragazza Aveva talento Si pose l'obiettivo Di farla crescere Come una tennista Professionista Vendette Tutti i suoi immobili Vendette Assolutamente Tutto Per poter investire Questi soldi Nella formazione Di sua figlia Recentemente L'altro giorno Ho ascoltato Una valutazione Di atleti di spicco Tra cui La Sharapova Che ha annunciato Il completamento Della sua carriera Per tutto L'anno precedente Non ha praticamente Gareggiato E si è piazzata Al trecentesimo posto In classifica Per molto tempo È stata La prima racchetta Al mondo E ha vinto Tutti i premi Del grande slam Questa straordinaria Atleta Pur giocando Molto poco Guadagnando Solo Su contratti Pubblicitari Ha realizzato Quasi 197 milioni Di dollari In un anno Forse Quando suo padre Si è posto L'obiettivo Di far diventare Sua figlia Una tennista Professionista Forse Voleva solo Essere orgoglioso Di lei Forse Sperava di diventare Un giorno Una persona ricca Grazie ai guadagni Della figlia Forse Era qualcos'altro In ogni caso Questa È una questione Che deve essere Discussa E meditata Cosa si vuole Ottenere Dal proprio Obiettivo Come si vuole Vivere Con esso Guardiamo Oltre A quale domanda Dobbiamo ancora Rispondere Cosa Non è importante Per me Per raggiungere Questo obiettivo E qui bisogna Pensare A proposito Faccio un'altra Precisazione Quando rispondiamo Queste domande Per noi stessi Non possiamo Pensare Che finisca Tutta la risposta Che abbiamo Passato due ore Stasera A rispondere A queste domande Ed è tutto finito No Non è vero E non funzionerà Così Si risponde A queste domande Costantemente A se stessi E ci si lavora Costantemente Le si corregge Ci si lavora Ci si lavora Ci si lavora Quando si lavora E si pensa Ci si incoraggia A prendere Le decisioni giuste Solo quando si pensa E si risponde Sinceramente A queste domande Si possono trovare Le decisioni giuste Cosa dovreste fare Come dovete agire Quindi Ancora una volta Cosa non è importante Per me Per raggiungere Questo obiettivo Per esempio Se si parla Di risparmio Per l'istruzione Dei bambini Allora Probabilmente È facile comprendere Che ci sono Molti diversi Tipi e gradi Di istruzione Giusto Se scegliamo Per il nostro Bambino Per esempio Che la carriera Di un ballerino È l'ideale Per lui O lei Beh Probabilmente Non importa Quale sia il costo Degli studi A Harvard Perché a Harvard Non si istruiscono Ballerini Non è importante Neppure Cosa succeda Anche in alcuni Istituti Di educazione Finanziaria Cosa è importante Allora Probabilmente La conoscenza E l'analisi Delle scuole Coreografiche Di cui mio figlio Studierà E quelle che saranno Collegate al balletto O alla danza moderna Probabilmente Altre cose Sono importanti Per me Che mio figlio Abbia avuto Una formazione Speciale Fin da piccolo E che io Abbia avuto L'opportunità Di spendere Dei soldi Per questa formazione Speciale In qualche scuola Legata Alla danza Forse Sarà la ginnastica Forse Sarà una scuola Di danza Per bambini E così via Questo è ciò Che conta Per me E devo ripensarci Lo ripeto Abbiamo scelto Un obiettivo Che sembra essere Vicino a quasi Tutte le persone E con questo esempio Stiamo solo Considerando Come possiamo Raggiungere I nostri obiettivi Il punto successivo O meglio La prossima domanda A cosa dovrò Probabilmente Rinunciare Mentre raggiungerò Il mio obiettivo Se io e lei Abbiamo stabilito Che stiamo risparmiando Per l'istruzione Dei nostri figli Come possiamo Far sì Che ciò Avvenga Vi ho detto Che nel programma Goal Set Master Potete indicare Una certa somma Che volete spendere In seguito Per l'educazione Di vostro figlio Vedrete Quanto dovrete Risparmiare Ogni mese Per accumulare Questa somma Durante il periodo Di tempo Che vi siete Prefissati Per raggiungere Il vostro obiettivo Ma qui Si presenta Una sfumatura Supponiamo Che io debba Risparmiare 200 dollari Al mese Per l'istruzione Di mio figlio E il mio budget mensile Sia di 1000 dollari Sottraendo 200 a 1000 Mi rimangono 800 dollari Calcolo il budget Della mia famiglia E capisco Che la somma Di 800 dollari Non è sufficiente Per la vita normale Della nostra famiglia Devo rinunciare Devo rinunciare A qualcosa Ok A cosa posso rinunciare Sto solo ragionando In astratto Usando questo esempio Prendo la decisione Di non spendere soldi Per i trasporti pubblici Di cui ho bisogno Per andare al lavoro Diciamo 100 dollari Al mese Andrò al lavoro a piedi Risparmierò Ma qui si scopre Una cosa interessante Rispondendo Alla domanda Del test Ciò a cui Molto probabilmente Dovrò rinunciare Mentre raggiungerò Questo obiettivo Mentre pianifico La mia vita Forse rinuncio Usare i mezzi pubblici E vado a piedi Risparmiando così 100 euro Il che permette Alla mia famiglia Di vivere decentemente E risparmiare Per le istruzioni Di mio figlio Ma c'è un punto Che vorrei Che consideraste Supponiamo Che una persona Passi due ore In viaggio Per andare al lavoro E due ore indietro Cioè che passi Quattro ore Al giorno Solo per andare Al lavoro E tornare E non nel modo Più comodo E conveniente E che risparmi Questi 100 dollari E questo permette Alla sua famiglia Di vivere E di risparmiare Per distruzione Per distruzione dei bambini Ma ecco Il prossimo punto Su cui vale la pena Riflettere Se passo Quattro ore Al lavoro E ritorno Forse Ho bisogno Di cambiare Di nuovo Qualcosa Nella mia vita Forse Forse Ho bisogno Di un altro Piccolo Piccolo Obiettivo Per raggiungere Il mio Grande Obiettivo In modo Da poter Guadagnare Altri 200 Dollari Durante Queste Quattro Ore Per poter Viaggiare Con i mezzi Di trasporto Invece Di camminare E portare Un po' Di soldi In più Al budget Della famiglia È molto Importante Riflettere Su ogni domanda In modo Ponderato E responsabile Le vostre Risposte Non aiuteranno Il vostro vicino Che vive A tre Isolate Di distanza Da voi Quando state Considerando I vostri Obiettivi Ma vi Aiuteranno E se potete Farlo da soli Forse Potete Parlarne E aiutare Questo vicino Con il nostro Programma Golset Master In modo Che anche Il vicino Possa guardare In questa direzione E pensarci Ok La prossima Domanda Come parlare Di questo Obiettivo A uno Sconosciuto In un Minuto Questa Domanda Sembrerà Strana Strana A molte Persone Perché Dovrei Dire A qualche Sconosciuto In un Minuto I miei Obiettivi E quello Che voglio Raggiungere Ma In realtà Se ci ragionate Un poco La ragione Diventa Chiara Se si è Se si è in grado Immaginato Al fatto Al fatto Al fatto Che sarebbe Stato Bello Per lei Trasferirsi In un Paese Molto Sviluppato E iniziare A costruirvi La sua Carriera E che avrebbe Dovuto Iniziare A studiare In anticipo Aveva solo 18 anni Le ho chiesto Cosa vuoi esattamente Sei pronta A decidere Chi vuoi essere E qual è Il tuo Obiettivo Lei ha risposto No papà Non lo so Dopo le nostre Conversazioni E i miei consigli Ha preso La sua Decisione E si è recata In questo Paese Per costruirsi Una nuova vita E aveva solo 18 anni Visto che Questa persona È cresciuta In una casa Circondata D'amore E cure È stato Difficile Molto Difficile Per lei Adattarsi A vivere In un Paese Straniero Ci sono State Lacrime E non è Stato Affatto Facile È stata Una tappa Intermedia Di cui Sono Molto Orgoglioso Una tappa Intermedia Nel mio Obiettivo Che era Una figlia Istruita Di Successo E indipendente Parlando con lei L'ho fatta riflettere Sui suoi obiettivi E dopo la sua partenza Ho continuato a farle Costantemente Varie domande Che le fossero di guida In effetti Erano domande Di prova L'unica cosa L'unica cosa che volevo Ottenere Era che lei Trovasse Autonomamente Il suo obiettivo E cominciasse A raggiungerlo A proposito Potete chiedervi Perché volevo Che partisse Per un altro Paese Beh, prima di tutto È stato in questo paese Che ha potuto Ottenere la migliore Istruzione E in secondo luogo Sono profondamente Convinto Che quando una persona Entra in un ambiente Estraneo E sconosciuto La sua capacità Di sopravvivere E l'intenzione Di raggiungere Qualcosa di utile Aumenterà Molte volte Basta guardare Le storie Di persone Di successo Molto spesso Si tratta Di storie Di persone Provenienti Da zone Di provincia Quando mia figlia Mi chiamò Sei mesi dopo E mi disse Papà Ora so Assolutamente Che tipo di lavoro Non voglio Questo non significa Che siano cattivi O che non li rispetto Ma voglio Lavorare lì So cosa voglio essere So cosa voglio fare Mi sentì orgoglioso La necessità Di sopravvivere In un ambiente Sconosciuto E il lavoro Costante Con le domande Di prova Inventate dal padre Hanno fatto Il loro dovere L'obiettivo È stato fissato E il piano Per il suo Raggiungimento È stato sviluppato E ha anche Aggiunto Papà Al momento Non esiste Un paese Al mondo In cui non possa Trovare un lavoro Entro una settimana E provvedere a me stessa Non devi preoccuparti È stata una Delle mie vittorie E me ne posso Vantare Con piacere Vedete Quando si racconta Una storia Di un certo successo Una storia Di come si fissa Un obiettivo E di come lo si raggiunge Allora Allora prima di tutto Si aiuta Se stessi Ci si motiva E ricordate Che una buona storia Di successo Motiva sempre Le persone E suscita Un senso di rispetto Per voi Forse Volete dire questo Voglio che Il ritratto Di mio figlio O di mia figlia Sia pubblicato Su New York Times O altrove E che il Financial Times Scriva Che è il principale Finanziere O il miglior atleta Del secolo O qualcosa del genere Forse È questo Che vuoi dire Ma Prima dovreste Cercare di rispondere A questa domanda A voi stessi Lo ripeto Ancora una volta Siete voi Che avete bisogno Di risposte A tutte queste domande Questo è uno strumento Che vi permette Di vedere Veramente Ciò che volete E come Lo otterrete Ok Andiamo avanti Le prossime Sono due domande Che vorrei Combinare Assieme Suonano così Con chi voglio Collaborare Per raggiungere Il mio obiettivo E con chi Non voglio Collaborare Per raggiungere Questo obiettivo E perché Anche queste domande Sono piuttosto importanti E le risposte E le risposte Possono essere semplici Dato che devo Risparmiare Devo farmi venire Qualche idea E pensare a qualche Reddito extra Quindi Quindi ho bisogno di comunicare Con persone che sono impegnate in qualcosa Che genera il reddito E con le quali posso fare qualche tipo di affare In comune Beh La risposta è probabilmente Ovvia Non ho bisogno di collaborare Non ho bisogno di collaborare con persone che hanno smesso di andare avanti Che non hanno obiettivi La cui vita è un problema totale e l'unica fonte di reddito possibile è un prestito A proposito Di solito È impossibile aiutare queste persone Non accettano un vero aiuto L'unica cosa che sono disposte ad accettare da voi È il vostro denaro E Come ho detto all'inizio Si sono fermati Non vanno avanti Ma il problema molto più grande Non è che non solo si sono fermati Ma che fermeranno anche voi Perché dovrei comunicare Perché dovrei dedicare del tempo a persone Che in nessun modo possono portarmi a raggiungere il mio obiettivo Ma che possono impedirmelo Si deve guardare con attenzione a ciò che ci circonda Chi c'è intorno a noi? Ricordate Un giorno me lo disse una persona saggia Non abbiate paura di sbagliare Abbiate paura di smettere di andare avanti Ed ecco La seconda parte di quello che mi ha detto Di cui non vi ho parlato all'inizio del mio discorso di oggi Ha detto Circondatevi di persone Che non smettono di andare avanti Ecco quindi la risposta a queste due domande Prima di tutto Dovreste osservare attentamente il vostro ambiente Non circondatevi di persone che smettono di andare avanti Ne cercate di regolare la vostra comunicazione su queste persone Lasciate che vi faccia un semplice esempio Una volta ho notato che l'umore di mia moglie È peggiorato drasticamente in un certo periodo di tempo Ho pensato Forse ho fatto qualcosa di sbagliato Forse l'ho in qualche modo offesa O è successo qualcos'altro In realtà Tutto si è rivelato molto semplice Avevo un'amica che andava a trovarla regolarmente La incontrava regolarmente E tutte queste conversazioni Consistevano per lo più in lamentele di questa amica Questa donna ripeteva a mia moglie Dalla mattina alla sera Quanto stesse male Non guadagna soldi decenti E suo marito è, beh Diciamo così, un uomo cattivo I loro figli sono degli sciocchi Tutto va male Tutto il paese è disgustoso Beh, per dirla in poche parole Un cataclisma totale E una catastrofe assoluta Che regnava ovunque Di conseguenza è successo questo Quando mia moglie Una persona positiva ed educata Ascoltava tutte queste lamentele Ha cercato di aiutare Non solo di simpatizzare Ma di suggerire alla sua amica un piano d'azione Beh, ha detto Guarda, forse faremo questo Forse farete quello Forse lo farete qui Forse lo farete là Questa donna non ha ascoltato Non ha sentito proprio niente Non le importava Aveva un solo desiderio Dire quanto tutto fosse brutto Di conseguenza Dopo queste conversazioni L'umore di mia moglie è peggiorato E io le dissi Ascolta mia cara Facciamo così Non offendere naturalmente questa persona Ma cerca di ridurre il tempo di comunicazione con lei Se tu, dopo aver ridotto il tempo di comunicazione Ti sentirai molto meglio Cosa che in effetti è successa Allora probabilmente è meglio evitare una persona del genere Perché non vuole accettare il tuo aiuto Rispondete quindi a queste due domande dal punto di vista dell'obiettivo Con chi bisogna comunicare Con chi non bisogna comunicare Bisogna guardare con attenzione E riflettere su con chi si ha veramente bisogno di comunicare E chi ci sta rallentando nel raggiungimento del nostro obiettivo Pensate e fate la vostra scelta Cari amici Passiamo alla prossima domanda di prova Come si sentiranno le persone intorno a me Quando raggiungerò il mio obiettivo? Consiglio vivamente di riflettere su questo tema Per un semplice motivo Una persona è un essere sociale E non può vivere al di fuori della società Altre persone la circondano Questa è una verità banale che tutti conoscono Ma succede che nella nostra vita Siamo circondati da varie persone Che hanno atteggiamenti diversi rispetto a come viviamo A come vivono i nostri figli A cosa otteniamo E il loro atteggiamento e il loro comportamento A volte hanno un effetto sul fatto che possiamo raggiungere il nostro obiettivo O qualunque altra cosa Non crederò mai se qualcuno mi dice che in tutta la sua vita nessuno lo ha mai invidiato Non crederò mai se qualcuno mi dice che ci sono persone che nessuno ha mai voluto imbrogliare Inoltre, non crederò mai se qualcuno mi dice che non c'è stata una sola persona Che almeno una volta nella sua vita sia stata felice per me Cose del genere non succedono mai Le persone provano davvero certe emozioni per tutta la vita nei confronti di altre persone Se vi siete prefissati degli obiettivi Allora dovete guardare a quell'ambiente e a quelle reazioni che incontrerete sulla strada Per raggiungere i vostri obiettivi Le persone sono diverse e ci possono essere varie considerazioni Ma se consideriamo l'obiettivo di risparmiare per l'educazione dei bambini Mi sembra che questo sia un obiettivo piuttosto grande e difficile Che richiede molte azioni diverse Così come la vostra capacità di controllare il vostro ambiente E impedire tutto ciò che vorrebbe ostacolare il raggiungimento del vostro obiettivo a tempo debito Avete mai incontrato nel vostro ambiente persone che non si sentivano bene per il successo dei vostri figli E per il fatto che li stavate preparando a qualcosa? Credo che in un modo o nell'altro Ognuno di noi si sia trovato in una situazione del genere Non sarà necessariamente ovvio Non lo sentirete necessariamente sotto forma di un discorso diretto Ma queste persone, credetemi, esistono E possono sorridervi in faccia Possono dirvi belle parole Ma allo stesso tempo possono fare cose nascoste, segrete Che vi impediranno di raggiungere il vostro obiettivo Possono semplicemente farvi del male Il criterio chiave per identificare queste persone è la critica Criticano il college che avete scelto per i vostri figli Il sistema educativo nel suo complesso E forse possono anche fare delle osservazioni critiche sulle capacità dei vostri figli Vi consiglio di osservare le persone che vi circondano Siate prudenti e ragionevoli Proteggete voi stessi e il vostro ambiente Non lasciate che qualcuno dall'esterno interferisca con i vostri piani e con quelli dei vostri amici Le prossime due domande In effetti si sovrappongono le precedenti E sembra che ci siano alcune ripetizioni nel programma Goal Set Master Ma questo non è del tutto vero Ogni nuova domanda ha un suo significato speciale E con l'apparente somiglianza Incoraggia una persona a elaborare accuratamente e con cura I propri obiettivi e i piani per la loro realizzazione Bisogna lavorare con questo programma Bisogna pensare Bisogna capire veramente alcune cose E ripensare Quindi Ecco le due domande seguenti Che ora combinerei assieme Cosa devo e non devo fare Perché le altre persone vogliono aiutarmi A raggiungere il mio obiettivo? Anche le risposte sono abbastanza ovvie Probabilmente Se mi pongo un certo obiettivo E devo fare dei risparmi finanziari Non dovrei ingannare nessuno Se commetto qualche azione non etica Nei confronti di alcune persone Probabilmente Primo o poi Questo mi impedirà di raggiungere il mio obiettivo E se aiuterò altre persone Comunicherò con loro Mi consulterò con loro Userò la loro esperienza E i loro consigli Per raggiungere il mio obiettivo Allora Un tale approccio Mi aiuterà Probabilmente Anche se rispondiamo a queste domande Dal punto di vista Di dettagli elementari Che possono sembrare insignificanti Per molte persone Aumenteremo seriamente Il nostro potenziale Sulla via del successo Dopotutto È abbastanza ovvio Che se siamo puntuali E arriviamo in tempo Alle riunioni di lavoro Se seguiamo il dress code Che soddisfa le aspettative Delle persone E l'argomento Della conversazione Se siamo pronti A presentare Le nostre idee E precisi Nell'esporre I punti chiave Di queste idee Allora Le probabilità Di un atteggiamento Positivo Nei nostri confronti Aumenteranno Notevolmente E quindi Aumenteranno Le probabilità Del nostro successo Siate primurosi E attenti Rispondendo A ciascuna Delle domande Non dimenticate Di fare attenzione Alle piccole cose La cui a volte Dipende Metà Del successo La prossima Domanda C'è qualcuno Per cui Il mio raggiungimento Di questo obiettivo Non sarebbe Auspicabile Chi sono Queste persone Spero sinceramente Che non ci siano persone Di questo tipo Nella vostra vita Ma Tuttavia Se esistono Allora è meglio Che sappiate Che ci sono Sappiate Che non hanno Un atteggiamento Molto gentile Verso gli obiettivi Che vi siete Prefissati Perché esistono Queste persone Beh Forse qualcuno Non è semplicemente In grado Di raggiungere L'obiettivo Che vi siete Prefissati Forse qualcuno Non è affatto In grado Di raggiungerlo E spesso Da queste situazioni Nascono rabbia E invidia Ovvero Una persona Del genere Non è in grado Di fare qualcosa Per se stessa Vede che qualcuno Sta facendo bene E sta andando Nella giusta direzione Ma lei Non riesce Nemmeno A formulare Il suo obiettivo Questo Può amareggiarla Sarò felice Se valuterete Tempestivamente I rischi Dell'esistenza Di tali persone Nella vostra vita In questo caso Non sarà Una sorpresa Completa per voi Se sarete in grado Di prendere Le decisioni giuste Che proteggono I vostri sogni I vostri obiettivi E i modi Per raggiungerli Passiamo Alla prossima Domanda Di prova Quali competenze Personali Devo sviluppare Per aumentare Le mie possibilità Di successo Una domanda Meravigliosa A cui pensare Una delle mie preferite E comincerò Con una risposta Non standard Quali capacità personali Di solito La gente Interpreta questa domanda Come un insieme Di azioni Molto intelligenti E complesse Devo imparare qualcosa Fare qualcosa Di dieci volte Più difficile Aumentare qualcosa Cambiare il mio livello Iscrivermi ad alcuni corsi Laurearmi in due università E poi avrò più opportunità E così via In breve Bisogna diventare un dio Di livello 80 Sì forse è vero Naturalmente è vero E funziona Ma comincerei A considerare Questo problema Dalle basi Abilità Personali Per esempio Forse ho bisogno Di fare esercizi Mattutini Ogni giorno Avrete una domanda Come può Questo influire Sul raggiungimento Del mio obiettivo È molto semplice Se vai a letto A tempo debito E fai gli esercizi Mattutini Al mattino Sei in buona forma E se il vostro corpo È in buona forma Allora avete più vitalità E la capacità Di fare qualcosa Le vostre prestazioni Sono la chiave Del vostro successo Cioè A volte Non dovete pensare A qualcosa Di assolutamente globale A volte Le decisioni Più semplici Ed elementari Vi aiutano A raggiungere Il vostro obiettivo Passiamo alla seguente Domanda di prova Quali informazioni Devo studiare Per diventare Più competente E in grado Di ottenere Il risultato atteso Con il mio lavoro Beh è abbastanza semplice La domanda Riguarda L'apprendimento Coloro che mi conoscono Da molto tempo Sanno che io Dico che studio sempre Per tutta la vita Io ogni giorno Cerco di ottenere Un qualche tipo Di informazione Che sviluppi Le mie capacità La chiave qui È che bisogna Scegliere Esattamente Le informazioni Di cui si ha bisogno In questo periodo Della vita Che vi aiutino A raggiungere Alcuni risultati In questo momento O a portare A compimento Il vostro obiettivo Cioè Dovete imparare A capire Cosa vi serve In questo momento E soprattutto In questa situazione Dopo aver scelto Alcune informazioni Dovete studiarle Regolarmente Questo è il punto Più importante Regolarmente E inoltre Dovete sviluppare La vostra capacità Di applicare Immediatamente Queste informazioni Nella vita In modo da poterle Applicare Nella realtà Altrimenti Queste informazioni Sono morte E inutili In realtà Siamo circondati Da un sacco Di conoscenze Interessanti E da molti dati Dato che oggi Attraverso internet Possiamo probabilmente Ottenere assolutamente Tutto Proprio tutto Il problema È nella scelta Dei dati Realmente necessari Che vi aiuteranno Realmente A realizzare I vostri progetti E per questo Dovete farlo Sistematicamente Questo è il primo punto Il secondo punto Che forse È la cosa più importante A mio parere Lo ripeto È la capacità Di applicare I dati che avete I dati che avete Ottenuto Che avete studiato In modo che Queste informazioni Vi aiutino davvero Se oggi decido Inaspettatamente Inaspettatamente per me E per i miei amici Di studiare il corso L'arte della gente immobiliare La mia domanda è Ne ho davvero bisogno adesso? Probabilmente Si tratta di una buona informazione Ma non mi serve più Ho un'attività Completamente diversa E ho bisogno Di altre conoscenze Non mi servono affatto Sì, posso studiarle Probabilmente Sarò felice di farlo Avrò una certa Soddisfazione personale Ma A che scopo? Per quale ragione? Posso applicarle subito? Domani aprirò La mia agenzia immobiliare? Venderò case, terreni E altri oggetti? No Non lo farò Pertanto qui Dovete definire Con precisione E chiarezza Cosa volete E cosa vi sarà utile Probabilmente La decisione migliore Sarebbe quella Di studiare Quei materiali E migliorare Le mie competenze Nel settore Che oggi Mi porta a reddito E mi avvicina Al raggiungimento Dei miei obiettivi Prossima domanda Sto facendo qualcosa Che mi impedisce Di raggiungere Il mio obiettivo Uno dei miei conoscenti Un uomo d'affari Con una buona salute Un'azienda di successo E una famiglia meravigliosa Si siede E gioca al computer Per tutta la notte Non so quali giochi Non ha alcuna importanza Ma a causa di questo Quest'uomo Dorme solo 3-4 ore Cosa ne pensate Se una persona Ha una tale routine Di vita Non importa Quanto forte Possa essere fisicamente Ma in un modo Nell'altro Questo influenzerà Comunque Le sue prestazioni La sua capacità Di pensare La sua capacità Di condurre Gli affari In modo efficiente E competente E non importa Cosa dicono gli altri Funziona così Nella vita Oppure Una persona Decisa da sola Che può mangiare Solo la sera Questo Influencerà Negativamente Anche le sue capacità Si trasformerà Certamente In un problema Prima o poi Sono cose semplici A cui le persone Spesso non pensano Non pensano Che questo Possa in qualche modo Influire Sulla loro vita Ma queste piccole cose Molto spesso Hanno una tendenza Ad accumularsi Questo non significa Che se stasera Non andrai a letto Prima delle due O le tre del mattino Tutta la tua vita Sarà distrutta No Naturalmente Questo non accadrà Ma se lo fate Per un anno Allora Prima o poi Arriverà un momento In cui avrete Un qualche tipo Di disturbo Qualche problema Non sarete in grado Di eseguire In modo chiaro E preciso Quello che volevate fare Questo è destinato A succedere Purtroppo È così Che funziona la vita E purtroppo Dobbiamo dormire Purtroppo Dobbiamo imparare Se vogliamo qualcosa Anzi Direi Per fortuna Queste Sono cose semplici E quando mi concentro Su queste semplici cose Voglio solo mostrarvi Che per tutta La sua semplicità esterna Il programma Golset Master Non è affatto Un programma Per bambini Non è un programma Per l'intrattenimento È un programma Che è stato creato Affinché possiate Pensare A voi stessi E alla vostra vita Affinché possiate Disciplinare E pianificare La realizzazione Dei vostri obiettivi E dei vostri piani E raggiungerli davvero E affinché possiate Farlo voi stessi E aiutare Qualcun altro Ad approfittare Di questo programma Ma potete farlo Solo quando avrete Completato Questo percorso Da soli Passiamo Alla prossima domanda Cosa devo cambiare Nella mia vita Per creare O migliorare Le condizioni necessarie Per raggiungere Il mio obiettivo Anche questa È una domanda Importante Sembrerebbe Che ripeta La precedente Ma ci sono Alcuni elementi E sfumature A cui vale la pena Prestare maggiore Attenzione Cioè Se abbiamo parlato Prima di dormire Forse qui Parleremo Di come funzionano I rapporti familiari Dove lavora Vostra moglie Se lavora Se ha bisogno Di lavorare Forse Dovreste Lavorare voi E lei Dovrebbe stare a casa Con i vostri figli Invece di assumere Una tata Ci sono molte opzioni Diverse Per ottimizzare La vostra vita Vedete A volte Infatti Qualcuno dice Che tutti in famiglia Dovrebbero lavorare Sia la moglie Che il marito Sì È possibile Ma forse La moglie È una specie Di freelance O ha un orario Libero Che le permette Di crescere figli E di non assumere Una tata Perché Non importa Quale meravigliosa Tata Assumiamo Non importa Quanto siano Meravigliosi I nostri nonni E le nostre nonne La mamma È sempre La mamma Questo è un aspetto E un elemento Di questa domanda Ma in realtà Come possiamo Migliorare Le nostre condizioni È possibile Che sia necessario Migliorare E spendere Una certa quantità Di denaro Ad esempio Per migliorare Le condizioni di vita Cioè Non è necessario Cambiare L'appartamento La casa O l'abitazione In cui si vive Ora Forse È necessario Migliorare Alcune comunicazioni Forse È necessario Avere un internet Più potente Forse È necessario Fare un altro Tipo di impianto Idraulico Questi possono essere Diversi elementi Della vita Che miglioreranno Il vostro ambiente Di vita Il che significa Che il vostro umore Sarà migliore E le vostre capacità Aumenteranno Spesso Molte persone Non si rendono conto Che anche le cose Molto semplici Influiscono Sulla capacità Di raggiungere Rapidamente I propri obiettivi O sul fatto Che questo processo Si prolunghi Beh È facile Come recitare L'alfabeto Se un padre Gestisce Un'azienda Anche se piccola Molto piccola Minuscola E per risparmiare Decide di indossare Lo stesso paio Di scarpe Per dieci anni Per tutte le sue Riunioni Il che Ovviamente È probabilmente Ottimo Dal suo punto di vista Per risolvere Una sorta Di piccola Questione Insignificante Questa In realtà Non è una soluzione Al problema E questa Non è una soluzione Che farà avanzare I suoi obiettivi Perché lui Viene con le scarpe Consumate A un incontro E la gente Lo nota E lo vede E ha davvero Aiutato i suoi figli Risparmiando E non comprandosi Un normale paio Di scarpe No Non l'avrà fatto Non l'ha aiutato Affatto Sarà percepito Come un partner Normale Con cui si può avere A che fare In modo che si possa Guadagnare un po' di soldi E risparmiarli Per il futuro No Non lo sarà Pertanto Vale la pena Di guardare a queste cose Con grande attenzione Sono iperboli In modo che possiate Davvero sentire E capire Questi momenti Certo Non è sempre così Nella vita E tutti voi Siete persone Ragionevoli Voi sapete cosa fare Ma molto spesso Anch'io vivo Questi momenti C'è un concetto Come Offuscamento Quando la mia vista È offuscata I miei occhi Sono offuscati E non si sente Non si capisce Dov'è il problema Dov'è la soluzione E il problema È solo che ti è successa Qualche sciocchezza Come se ti si fosse Slegato una scarpa Qualcuno non ci fa caso Ma in realtà È molto importante Prossima domanda Quali regole di vita Devo accettare E rispettare Rigorosamente Per creare Le condizioni Favorevoli Al raggiungimento Del mio obiettivo E qui Troviamo Un altro punto Questa È l'ultima domanda Di prova Quali sono Le regole Se prima Parlavamo Di alcune decisioni Da prendere Allora Le regole Sono cose Del tutto chiare E precise Che avete accettato Per voi stessi Come una certa legge Voi agite E vivete Secondo questa legge E per voi È corretta A priori Ci appare sicura Come qualcosa Che deve essere così Voi stabilite Stabilite la vostra routine quotidiana Stabilite il tempo Per la vostra formazione E questa è la regola Applicate queste regole Potreste dover Introdurre delle regole Anche per le persone Che vi circondano Forse Introdurrete delle regole Per i vostri partner Come quando A che ora Si svolge la vostra comunicazione Forse scriverete Il vostro programma Dei webinar Le regole Possono essere varie Ma queste sono Le vostre regole E dovete seguirle Ho un amico Che usa due telefoni Uno è un telefono Aziendale E con questo numero Di telefono Comunica solo Con i suoi soci E nella moglie E nei familiari Conoscono questo numero Di telefono aziendale E ne ha un altro Il telefono di casa Perché l'ha fatto? Ha creato Una distinzione Chiara e precisa Su quando E come lavora E su quale telefono Parla E a che ora Queste erano Le sue regole Siano esse Buone o cattive Queste sono Le sue regole Con cui vive E lavora Comodamente E vi consiglio A seconda Di ciò che fate Di ciò che promuovete Di come guadagnate Dovreste valutare Voi stessi Quali regole Sviluppare Per voi stessi Le regole Che governeranno La vostra vita Sono legate Al lavoro Agli affari Alla famiglia All'educazione Dei figli E anche legato Al piano Che avete sviluppato Per la realizzazione Del vostro obiettivo Se parliamo Di risparmio Allora potete Definire Chiaramente La regola Che ogni mese Per esempio Dal 10 al 15 Depositiate Una certa somma Di denaro In banca O facciate Un deposito In qualche altra forma Questi sono Affari vostri Ma cercate Di seguire Rigorosamente Le vostre regole Se le violate Per cause Di forza Maggiore È comprensibile Ma se avete Violato Le vostre regole A causa Di tentazioni Picrizia Mancanza Di disciplina Allora In un modo Nell'altro Avrete problemi A risolvere I compiti E a raggiungere I vostri obiettivi Scegliete Voi stessi Quindi Ricapitolando E riassumendo Tutto quanto detto sopra Torniamo al programma Goal Set Master Prima di tutto Questo è un programma Che ci permette Di fissare L'obiettivo Con precisione Il vostro obiettivo Personale E lavorare Con esso Ripeto Lavorare E pensare Ci costringe Ad attivare Tutte le nostre risorse Tutti i nostri pensieri Per costruire Un programma E un piano D'azione Assolutamente Accurato Per raggiungere Il nostro obiettivo Siamo felici Di fornirlo A tutti i nostri Business Partner E speriamo Che possiate Usarlo Voi stessi E che vi aiuterà Davvero A guardare alle cose Da un'altra angolazione Se siete in grado Di completarlo Da soli Allora Credetemi Questo è un programma Da raccomandare Alle persone Per aiutarle E Aiutando le persone Ottenere Rispetto E successo Questo è sicuro E Cosa più importante Otterrete Il sostegno Delle persone Recentemente Ho fatto un esempio Prima di Per presentare Qualsiasi programma O progetto Ai nostri clienti Devo metterli Alla prova Dei miei amici Dei miei compagni Dei conoscenti Più stretti E chiedere La loro opinione Feci così Con un serio Uomo D'affari Al quale Ho presentato In effetti Goal Set Master Mi ha telefonato Letteralmente Due ore dopo Questa è una persona Completamente Autosufficiente E di successo E mi ha detto Ascolta Sono assolutamente Scioccato Non me lo aspettavo Da me stesso A proposito In seguito Si è scoperto Che era stato Molto premuroso E serio Nel rispondere A tutte le domande Quindi Ero seduto E stavo ascoltando Il vostro programma Beh Probabilmente Ho usato la parola Sbagliato In questo caso Ho abbozzato Tre o quattro Grandi idee Per la mia attività In una sola pagina E questo vostro programma Mi ha fatto pensare Ai miei obiettivi E a molte cose Pensavo che tutto Fosse chiaro E preciso Ma ora Ho pensato Ad alcune cose E ho corretto Qualcosa Questo Non significa Che dovete andare Fino in fondo Fin dall'inizio Visto che la persona Ha raggiunto Un certo successo Ma il nostro programma Lo ha fatto Riflettere Seriamente Ho già fatto Questo esempio Ma questa Si è rivelata Essere solo La prima parte Di questa storia Poi È seguita La seconda parte Sono passati Alcuni giorni Tre o quattro giorni Mi ha chiamato E mi ha detto Ascolta È da molto tempo Che non andiamo a pesca È stata una proposta Che all'inizio Non mi ha entusiasmato molto Noi comunichiamo Ma a causa Della mole di lavoro Non comunichiamo spesso E purtroppo Raramente Usciamo insieme Da qualche parte Non sono andato Da nessuna parte Con lui Per molto tempo Figuriamoci Per una battuta Di pesca Quindi Ho accettato Qual era lo scopo Di tutta l'azione Non si trattava Di pesce O di pesca L'uomo Voleva solo Incontrarmi In un'atmosfera Rilassata E chiacchierare Questo è avvenuto Dopo che gli ho parlato Di Golset Master Gliel'ho inviato E lui mi ha spiegato Che tipo di reazione Ha avuto L'avete già sentito Da me Ma dopo mi ha incontrato E mi ha fatto Un sacco di domande Non solo sul programma Golset Master Anche domande Completamente diverse Voleva davvero Parlare E ascoltare La mia opinione Su vari argomenti Si può riassumere Tutto questo In modo semplice Quando si dà A una persona Qualcosa di buono Interessante Davvero utile E lo si aiuta Si ottiene Il suo rispetto Il suo buon atteggiamento E il suo interesse Quindi Vi consiglio Guardate questo programma Anche da questo punto di vista Sognate Fissate gli obiettivi giusti E raggiungeteli E la nostra azienda Ha tutti gli strumenti Necessari Per raggiungere I vostri obiettivi Vi auguro Successo E prosperità